Posto, debatto, a debito, presenta, a bandiera posto. Posto, debatto, a debito, presenta, a bandiera posto. Posto, debatto, a debito, presenta, a bandiera posto. Di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato. Di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'amministrazione, per il pubblico bene. Agenti in prova del duecentesimo e del duecentoduesimo corso. Lo giurate voi? Maggiulo! 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 Grazie a tutti.